La prossima settimana venite da noi? Beh, saremo in crociera. Avete vinto la lotteria? Abbiamo comprato BTP Valore. E quest'estate tutti in crociera. Scusate le occhiaie, ma sto girando questo video nel pieno della notte non appena ho saputo che qualche ora fa il MEF ha annunciato un'inattesa quarta emissione per il nuovo BTP Valore. Una fortunata saga di obbligazioni che sta raccogliendo decine di miliardi ormai da quasi un anno. Onestamente però ho come la sensazione che questa edizione sia nata un po' di fretta. Chissà come mai. Il video in realtà non sarà troppo lungo perché questo BTP praticamente è identico alla terza emissione. Vi riassumo le caratteristiche a schermo. Il periodo di collocamento va dal prossimo lunedì 6 maggio e durerà, salvo chiusura anticipata, fino al seguente venerdì 10 maggio. La durata quindi è di 6 anni e la scadenza è prevista per maggio 2030. Le cedole anche qui sono trimestrali a tasso fisso ma crescente con lo stesso meccanismo step up che abbiamo visto nella precedente emissione. Quindi 3 più 3. Questo vuol dire che per i primi 3 anni si avrà una cedola che cambierà aumentando negli ultimi 3. Anche questa volta il taglio minimo sarà di 1000€ e il prodotto sarà esclusivamente dedicato ai piccoli risparmiatori, ai piccoli investitori. Quindi verranno tagliati fuori gli investitori cosiddetti istituzionali. La più grande novità è che il premio fedeltà questa volta aumenta di altri 10 punti base e arriva a uno 0,8%. Per avere diritto a questo premio è necessario acquistare il BTP durante il periodo di collocamento e detenerlo fino alla scadenza. Quindi con un approccio all to maturity. Ricordo anche che l'acquisto del BTP valore durante il periodo di collocamento è privo di costi e dovete rivolgervi alla vostra banca. A dire il vero, nella stragrande maggioranza dei casi lo potrete fare direttamente dal vostro home banking o dalla vostra app. Altrimenti dovrete rivolgervi alle filiali. I vantaggi dei BTP già li conosciamo. Hanno una tassazione agevolata al 12,5% anziché il 26% standard. Inoltre sono esenti dall'imposta di successione e novità di pochi mesi fa adesso non vengono nemmeno conteggiati ai fini del calcolo dell'ISEE. A patto che il patrimonio investito non superi i 50.000€. Passiamo ad un ipotetico rendimento. E dico ipotetico perché i tassi verranno annunciati solo venerdì 3 maggio. Cioè il venerdì prima l'inizio dell'emissione. Proviamo però a fantasticare. A dire vero il contesto di mercato non è cambiato troppo perché i rendimenti che abbiamo a 6 anni sono molto simili a quelli che abbiamo avuto durante la terza emissione dell'ultimo BTP valore. Quindi se ipoteticamente i rendimenti dovessero mantenersi tali fino ai primi di maggio e quindi i presupposti dovessero essere quelli attuali ecco che potremmo avere cedole molto simili alla terza emissione. C'è una variazione solo di pochi punti base in rialzo. E quindi al toto tassi io provo ad ipotizzare un 3,30% nei primi 3 anni e successivamente un tasso che arriva a un 4,05% per gli ultimi 3 anni. Questi tassi porterebbero i rendimenti lordi ad essere di poco superiori al 3,8% e i rendimenti netti di poco superiori a un 3,30%. Parlo di rendimenti al plurale perché come sempre io vi mostro due tipologie di rendimento. Il tasso interno di rendimento e vi lascio il link in descrizione di Paolo Coletti dove lo spiega molto bene e poi vi riporto anche quello che io chiamo il calcolo del pollo il rendimento semplice che è il metodo più utilizzato dagli italiani per calcolare i loro guadagni dalle obbligazioni. Anche qui avete un mio video a riguardo che come sempre vi lascio in descrizione. Questi rendimenti includono anche nel loro calcolo il bonus fedeltà. Su un ipotetico investimento di 10.000€ la cedola trimestrale per i primi 3 anni sarebbe di 82,5€ equivalenti a 330€ annuali. Sto parlando ovviamente di cedole lorde. Dal quarto anno e fino a scadenza invece la cedola trimestrale arriverebbe a 101,25€ diventando 405€ annuali. Ma ancora una volta vi ripeto queste sono solo ipotesi perché le cedole ufficiali usciranno solo il 3 maggio. Alla fine chi ha comprato il BTP valore durante il periodo di collocamento e lo ha tenuto fino a scadenza riceve poi ben 80€ di mancia nell'ipotesi che abbiamo appena formulato. Signalo poi una unicità nel nostro panorama nel panorama dei BTP perché per la prima volta con soli 3 BTP grazie a questa nuova emissione del BTP valore sarà possibile avere una cedola mensile. Ripeto, con soli 3 BTP. Difatti vi metto a schermo il calendario e come potete vedere grazie alla seconda, terza e ormai questa imminente quarta emissione è possibile avere una cedola per ogni mese dell'anno. Come sempre in questi video anteprima io non posso esprimere un giudizio sulla bontà dello strumento perché finché non escono i tassi ufficiali non lo posso fare. Pertanto attenderò il 3 maggio prima di dirvi che cosa ne penso. Vi posso però già anticipare che così a pelle non mi piace il fatto che ci sia già una quarta emissione a poco più di due mesi dalla precedente e mi sembra quasi che il governo stia cercando disperatamente una fonte di denaro per coprire l'importante deficit maturato nel 2023. Deficit che è stato sopra le attese a causa di un inaspettato impatto dei bonus fiscali in particolare il 110% cosiddetto super bonus. Nel frattempo voi fatemi sapere invece che cosa ne pensate per ora. Ve lo aspettavate questo nuovo BTP valore? Lasciate un mi piace se il mio video vi è stato utile e se volete continuare a seguirmi iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video.